Rimase con lei circa tre mesi, poi tornò a casa sua. Il Vangelo stavolta non dice se vi tornò in fretta, come fu per il viaggio di andata, ma c'è da supporlo. Da Nazareth era quasi scappata di corsa senza salutare nessuno. Quell'incredibile chiamata di Dio l'aveva sconvolta. Era come se improvvisamente all'interno della sua casetta si fosse spalancato un cratele e lei vi camminasse sul ciglio, in preda alle vertigini, e allora, per non precipitare nell'abisso, si era grappata alla montagna. Ma ora bisognava tornare. Quei tre mesi di altura le erano bastati per placare i tumulti interiori. Vicino a Elisabetta aveva portato a compimento il noviziato di una gestazione, di cui cominciava lentamente a dipanare il segreto. Ora bisognava scendere in pianura e affrontare i problemi terra a terra, a cui va incontro ogni donna in attesa, con qualche complicazione in più, come dirglielo a Giuseppe. E alle compagne con cui aveva condiviso fino a poco tempo prima i suoi sogni di ragazza innamorata, come avrebbe spiegato il mistero che le era scoppiato nel grembo? Che avrebbero detto in paese? Sì, anche a Nazareth voleva giungere in fretta. Perciò accelerava l'andatura, quasi danzando sui sassi. Oltretutto su quei sentieri di campagna vi si sentiva sospinta come dal vento, di cui però le foglie degli ulivi e i pampini delle viti non lasciavano percepire la brezza nell'immota cultura dell'estate di Palestina. Per placare il batticuore, che pure tre mesi prima non aveva provato in salita, si sedette sull'erba. Solo allora si accorse che il ventre le si era curvato come una vela, e capì per la prima volta che quella vela non sissava sul suo fragile scafo di donna, ma sulla grande nave del mondo per condurla verso spiagge lontane. Non fece in tempo a rientrare in casa e che Giuseppe, senza chiederle neppure che rendesse più esaurienti le spiegazioni fornite agli dall'angelo, se la portò subito con sé ed era contento di starle vicino. Ne spiava i bisogni, ne capiva le ansie, ne interpretava le improvvise stanchezze, e ne assecondava i preparativi per un Natale che ormai non doveva tardare. Una notte lei gli disse, senti Giuseppe si muove, lui allora le posò sul grembo la mano leggera come battito di palpebra, e rabbrivedì di felicità. Maria non fu estranea le tribolazioni a cui ha soggettata ogni comune gestante, anzi, era come se si concentrassero in lei le speranze, sì, ma anche le paure di tutte le donne in attesa. Che ne sarà di questo frutto non ancora maturo che mi porto nel seno? Gli vorrà bene la gente, sarà contento di esistere, e quanto peserà su di me il versetto della Genesi, partorirà i figli nel dolore. Cento domande senza risposta, cento presaggi di luce, ma anche cento inquietudini che si intrecciavano attorno a lei quando le parenti la sera restavano a farle compagnia fino a tardi. Lei ascoltava senza turbarsi e sorrideva ogni volta che qualcuna mormorava «Scommetto che sarà femmina». Santa Maria, donna gestante, creatura dolcissima che nel tuo corpo di vergine hai offerto all'Eterno la pista di atterraggio nel tempo, scrigno di tenerezza entro cui è venuto a rinchiudersi colui che i cieli non riescono a contenere. Noi non potremmo mai sapere con quali parole gli rispondevi, mentre te lo sentivi balzare sotto il cuore, quasi volesse intrecciare anzitempo colloqui d'amore con te. Forse in quei momenti ti sarai posta la domanda se fossi tu a donargli i battiti o fosse lui a prestarti i suoi vigili e trepite di sogni le tue. Mentre Artelaio, risonante di spole, gli preparavi con mani veloci, pannolini di lana, gli tessevi lentamente nel silenzio del grembo una tunica di carne. Chissà quante volte avrai avuto il presentimento che quella tunica un giorno gliel'avrebbero lacerata. Ti sfiorava allora un fremito di mestizia, ma poi rispondevi a sorridere pensando che tra non molto le donne di Nazareth, venendoti a trovare dopo il parto, avrebbero detto rassomiglia tutto a sa madre. Santa Maria, donna gestante, fontana attraverso cui dalle falde dei colli eterni è giunta fino a noi l'acqua della vita. Aiutaci ad accogliere come dono ogni creatura che si affaccia a questo mondo. Non c'è ragione che giustifichi il rifiuto, non c'è violenza che legittimi violenza, non c'è programma che non possa saltare di fronte al miracolo di una vita che germoglia. Mettiti, ti preghiamo, accanto a Marilena che a quarant'anni si dispera perché non sa accettare una maternità indesiderata. Sostieni Rosaria che non sa come affrontare la gente dopo che lui se ne è andato lasciandola col suo destino di ragazza madre. Suggerisci parole di perdono a Lucia che dopo quel gesto folle non sa darsi pace e intride ogni notte il cuscino con lacrime di pentimento. Riempi di gioia la casa di Antonietta e Marco che non risuonerà mai divagiti e dia ad essi che l'indefettibilità del loro reciproco amore è già una creatura che basta riempire tutta l'esistenza. Santa Maria, donna gestante, grazie perché se Gesù l'hai portato nel grembo nove mesi noi ci stai portando tutta la vita donaci le tue fattezze modellaci sul tuo volto trasfondici i lineamenti del tuo spirito perché quando giungerà per noi il Dies Natalis se le porte del cielo ci si spalancheranno dinanzi senza fatica sarà solo per questa nostra sia pur pallida somiglianza con te.